Io non parlerò di passato, ci sono altre piazze che preferiscono inseguire i fantasmi del passato. Noi siamo qua per parlare di futuro e per immaginare il futuro in cui cresceranno i nostri figli. Solo una citazione per chi sta passando queste settimane in campagna elettorale, non a proporre qualcosa per domani, ma a fare il processo ai fantasmi della storia che non ritornano più. E non uso parole mie. Mi chiedo se questo antifascismo rabbioso che viene sfogato nelle piazze oggi a fascismo finito non sia in fondo un'arma di distrazione che la classe dominante usa su studenti e lavoratori per vincolare il dissenso, spingere le masse a combattere un nemico inesistente mentre il consumismo moderno striscia, s'insinua e logora la società già moribonda. Pierpaolo Pasolini, 1973.